questo sentiero qui è quello che poi parte da qui a metà dalla strada che c'è scritto quindi vai su non vai giù esatto perché noi venendo su abbiamo visto che c'era chilometro e mezzo prima di arrivare 2 c'era riccazione del sentiero rifugio gardeccia 3 chilometri e mezzo qualcosa è questo comunque da di qui ci passa da di qui perfetto grazie siamo di qua si dopo sbucchiamo la dove c'era il sentiero prima indicazione di prima è Sì Ah che bello 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 Ah che bello